Nuove quarantene a scuola, dopo le perplessità mostrate dagli istituti per la complessità delle regole pensate per ridurre il ricorso alla didattica a distanza. Regione, ufficio scolastico e altri, si sono messi a lavoro per mettere a punto un sistema organizzativo che riduca al minimo i disagi. Il primo problema da affrontare era quello dei tamponi. Con i test a tappeto in caso di un alunno positivo, da ripetere dopo cinque giorni, le famiglie hanno bisogno di tamponi gratuiti ed in tempi rapidissimi. Nell'area della ASLA Toscana Centro, a tal proposito, apriranno progressivamente 43 drive-thru, l'altro nodo cruciale relativo al sistema informatizzato che consenta, al tempo stesso, di scaricare la richiesta per il test e registrare l'esito del tampone. Il modello messo a punto prevede la generazione automatica, nel programma software in dotazione alle scuole, di un voucher con QR code che viene trasmesso via mail alle famiglie, da presentare al punto tamponi prescelto per effettuare il test gratuitamente. Il voucher con QR code, generato in modo automatico, fa sapere la Regione. Sarà disponibile a metà della prossima settimana, non appena completato l'aggiornamento del sistema informatico. Fino ad allora, gli alunni, per effettuare il tampone, potranno esibire direttamente la lettera inviata dalla scuola con il voucher allegato. Se il risultato del test è negativo, viene rilasciato agli studenti l'attestato con il quale possono tornare subito a scuola, ma dovranno comunque sottoporsi ad un secondo test dopo cinque giorni. In presenza di due casi positivi, oltre a quello riscontrato per primo, quindi tre in totale, starà a casa in quarantena tutta la classe.